Vecchie conoscenze della politica cittadina in campo, previsione futura le elezioni del 2020, salvo clamorosi colpi di scena che potrebbero avvenire nelle prossime settimane. A guidare gli ex sindaci, 5 per l'esattezza, è proprio uno di loro, Bartolo D'Antonio, già la presidenza del Lanci Campania per un lungo lasso di tempo. D'Antonio espone i termini del progetto politico per la città, che sarà più ampiamente discusso nella prima decade di novembre, con la promozione di un'iniziativa pubblica sul ruolo delle assemblee elettive. All'appello Umberto Postiglione, Giuseppe Lamura, Giuseppe Chiavazzo, Alessandro D'Antonio è lo stesso Bartolo D'Antonio, che spiega anche l'assenza di Pasquale Mauri, recente e discusso primo cittadino. Sul nome del possibile candidato sindaco ancora stretto riservo, D'Antonio non si sbilancia. Diciamo negli ex 5 sindaci di Angri abbiamo trovato una convergenza per dare un contributo alla città, null'altro. Abbiamo deciso che noi non ci candidiamo e vogliamo creare una nuova classe dirigente. Per creare una nuova classe dirigente bisogna essere severi dall'inizio e bisogna essere giusti nel valutare le persone che vogliono svolgere un ruolo pubblico. È vero che non ci sono tutti tra di noi, però abbiamo anche valutato questo aspetto. Noi siamo rispettosi della volontà degli altri. La stessa domanda mi è stata fatta ieri, più esplicitamente, dice perché Pasquale Mauri non sta con voi. Quando noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa Pasquale Mauri era già candidato. Andare da Pasquale Mauri significava provocarlo e significava magari avere anche qualche risposta particolare. Noi abbiamo tanto rispetto delle persone, tutti si possono candidare, per cui praticamente lo stesso discorso vale per Milo, vale per Ferruccio e Accarino, per tutti quelli che sono per Eugenio Lato. Noi auguriamo un successo elettorale a tutti quanti, però oltre il loro impegno elettorale, ci sarà anche il nostro impegno elettorale nel soltenere un ottimo candidato a sindaco e un'ottima squadra che potrà dare un contributo a questa città. Città che sta in pena da parecchi anni perché non riesce a trovare un clima di serenità. Questo clima di serenità manca nella politica e la politica deve appropriarsi anche di questo ruolo dare serenità alla politica e alla cittadinanza. Ecco, è un gruppo di senatori che appunto potrebbe essere anche uno simolo, fa da guida ai giovani, ma avete già un nome, un identikit preciso di quello che potrebbe essere il sindaco? Qui ci chiamate senatori, noi siamo ex cittadini che abbiamo svolto un ruolo di sindaco, quindi siamo in grado di consigliare e di dare suggerimenti. voglio dire, l'abbiamo fatto nei confronti di tutti, non so se rendo l'idea quando ci è stato chiesto. Oggi diciamo che questa città può ritornare agli antichi splendori se riusciamo a trovare tutti quanti insieme un modo per consentire, come ho detto prima, di abbassare i toni della polemica. Per cui gli avversari non sono nemici, ma sono concorrenti, sono persone che la pensano in un modo diverso, per cui devono essere rispettati. Io per esempio ho detto poco fa rispetto Pasquale Mauri che è legittimato a candidarsi, rispetto Eugenio Lato, quelli che ci stanno attualmente, Mimmo, come si chiama, Milo, Ferruccio e Accarini, questi sono i candidati che mi rispettano. Io li rispetto tutti, però... Presidente, 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 però in sintesi, in soldoni, ma c'è l'identikit di un sindaco nuovo che possa rappresentare una rottura con il passato? Questo è un altro aspetto, voi non dovrete votare noi, noi daremo solamente, voi sapete per creare una classe dirigente c'è bisogno del dato di partenza, della conoscenza, dell'informazione, dell'ordinamento, di tutto il sistema ordinamentale che gira intorno al Comune. Non saremo candidati noi, ma sicuramente avremo un sindaco di spessore. Un sindaco di spessore che possa rispondere, dopo anni, alle esigenze di una cittadinanza che è un po' sfiduciata, con i soliti nomi. Ci auguriamo che possiamo risolvere... Comunque noi inizieremo a creare le condizioni, di maggiore convivenza civile e politica in questo Paese. Oggi è difficile fare politica anche perché le regole sono cambiate. Guarda, in questi giorni mi sono arrivati complimenti e qualche osservazione, come a dire ma chi te lo fa fare perché non ti fai i cazzo tuoi? Non so se rendono l'idea. Per me la città di Anglia sono anche fatti miei. Quindi praticamente io voglio intervenire per dare un contributo nella città come l'ho dato. Io all'epoca prendevo 2000 voti di preferenza, non a caso 2000 voti di preferenza, era una scelta dei cittadini che mi suffragavano della loro fiducia per governare questa città.